Guardami attentamente, guardami qui, guardami qui, guardami, no, rilassati, lasciati andare a bagliore, il muscolo nervo è sciolto, molle, è perdonato, mentre ascolti su una delle mie parole, i tuoi gambe sono forti, sono di te, ti possono sostenere, via, via, adesso sto per contare da 5 a 1, le tue palpebre sono bloccate, 5 sono incollate assieme, 4 sempre di più, 3 incollate sempre di più, 2 incollate, 1 completamente collate, adesso tutte le volte che stringerò la tua mano, questo sarà il segnale per te di chiudere gli occhi, al numero 3 aprirai gli occhi, ma nel momento in cui io stringerò la tua mano così, i tuoi occhi si chiuderanno di nuovo, 1, 2, 3, apri gli occhi, guardami, guardami, do, via via sempre di più, scendendo via via ancora di più, al numero 3 aprirai di nuovo gli occhi, 1, 2, 3, ok, ogni volta la persona scende, a questo punto la tua mano si stringe intorno alla mia fortemente, più fortemente, più fortemente, più fortemente, 1, 2, 3, apri gli occhi, guardami, do, 2, e c'è il podio ad allontanarti, do, 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 a a a a a a a Grazie per la visione!